sopravvivenza solo che siamo circondati quando cosa vuoi fare cosa vuoi fare volevi poterli che volevi oh mio dio eccolo ma che cazzo no manca proprio terzo posto oh mio dio uccidetelo uccidilo uccidilo te uccidilo te per favore che uccidilo te vaffanculo vai vai sì sì siamo fortissimi oh siamo fortissimi una partita incredibile così mai vista sì come ok eccolo eccolo volevi nasconderti per me no non posso crederci io sono fortissimo mi sento imbattibile così è questa la famosa assimilazione delle forze di due combattenti riunite in un unico corpo estravigliante